Vigilia di Torres a GSM Verona sul campo d'allenamento delle Giallo-Blu nei pressi di Alghero. Siamo con Fabiana Comin. Allora Fabiana, com'è questa vigilia per questo match importante, soprattutto per la Torres, ma è un Verona che vuole figurare bene? Noi sappiamo che per loro è una partita decisiva, perché si stanno giocando lo scudetto e vorranno vincere a tutti i costi. Noi veniamo qua per far bene, per dimostrare il nostro gioco, anche perché vogliamo far vedere che la posizione dove siamo non è reale.